Inaugurato il nuovo anno accademico del Conservatorio Casella con un concerto chiamato Tradizioni Future con gli studenti del Dipartimento di Musica Antica e quello di Jazz. Numeri sempre in crescita per il Casella dell'Aquila che si conferma sempre più eccellenza e che avrà per il nuovo anno tante novità. A partire dal Master per Professore d'Orchestra, l'anno che inizia è anche quello buono per entrare nel vivo dell'Iter per il futuro trasferimento nella nuova sede dell'ex Accademia dell'Immagine. Guardiamo molto al futuro e le novità di quest'anno sono sicuramente la più importante, il decreto ottenuto dal Ministero per l'attivazione del Master di Biegno di secondo livello per Professore d'Orchestra. Questa è una possibilità che diamo ai nostri studenti per affrontare una formazione veramente professionale che poi li porti ad affrontare professionalmente e degnamente il mondo del lavoro. Poi anche l'attivazione del nuovo corso di Popular Music, questo si affianca agli altri due neonati corsi dell'anno scorso, Teorie e Tecniche di Musicoterapia e Musiche Tradizionali. Usciremo quest'anno con il bando di idee per trovare una società che ci faccia il progetto da presentare al Ministero. Oltre al direttore di Massimo Antonio era presente ovviamente il presidente Nazareno Carusi, anche studenti e l'autorità, ma anche una simpatica troupe di Sky, capitanata dal conduttore di calciomercato Alessandro Bonanna, seguito dal giornalista Valerio Spinella, detto il Faina. Una presenza importante perché registreranno lì la sigla del programma. Registriamo quella che fino a un po' di tempo fa si chiamava la sigla del programma, adesso la chiamano la canzone del programma e lo faremo con il maestro Bonolis a cui abbiamo girato un progetto scritto da me e dal pianista Leonardo Lagorio. A lui è piaciuto, lo ha ripreso, riarrangiato e con gli studenti e sarà realizzato qua, un'orchestra di circa 30 elementi. Ci teniamo a dire che noi ogni calciomercato vogliamo prima ambientarci, quindi non siamo arrivati all'Aquila così oggi per la canzone di oggi. Già ieri abbiamo mangiato le cose del posto, bevuto, mangiato benissimo.